Ok ragazzi siamo tornati qui su GTA 4 e avevamo rimasti qui con Nico all'ora. Io sto registrando questo video, adesso vi parlo cuore in mano, sto registrando questo video dopo un bel po'. Come avete ben visto io ho fermato la serie su The Walking Dead per un semplice motivo. Uno non stava andando, secondo, perché non mi piaceva ma non mi sentivo soddisfatto. Adesso proverò a ricominciare dopo un bel po' che non pubblico video, perché mi manca, ecco, l'ho detto, mi manca. Adesso ci abbiamo tra gli sta radio e non mi rimasti qui con Nico, che dobbiamo fare questo appuntamento galante. Farò venire la nausea? Probabilmente sì. Oh Gesù, che carizzo è sui G. Oh, è là! E dai però io c'ho l'appuntamento galante, cazzo roia, porca troia. E andiamo a salvare Roman, anche io non c'ho una pistola, non c'ho niente. A quanto ricordo, eh, perché io ovviamente non sto registrando GTA da tanto tempo. E adesso che ho trovato questo momento in cui l'avevo iniziato... Ma che cazzo... Ah, me l'ha messata solo la meta. Comunque a parer mio, eh. A parer mio dovrebbero mettere tipo una Remastered o un remake di GTA IV, perché... A quanto ricordo io è un gioco bellissimo. Attenzione, oh... Eh, vabbè. Chi è che si uccise? Ah, ecco qua. Non c'è la ruota delle armi o qualcosa? Ma non cazzo. Ottimo. Non toccate il mio frato cucino. Dai, Nico, alzati. Pezzi di merda. Ecco qua. Ma dobbiamo becchiarlo? Dai, pezzi di sterco. Ah, già. Basta. Ok, un è andato. Ah, già non può sparare. Ecco. Dai, vieni, vieni, vieni. Ti aspetto. No, sto per morire. Sto per morire male. No. Non tocca più. Non tocca più. Struzzi. Io potevo fare un appuntamento ganante, Roman. Ottimo. Ti devo acchiappare. Sali sul lato di Roman. Ok. Roman, muoviti. Muoviti, ti devi muovere. Insegui Dardan. Dardan? Dardan? Non daccio anche i musichami. Ok, lì davanti. Ottimo. Quindi che dovevo fare? Dovevo sparare una nave. Eh, sì. Eh, vabbè. Ma Dardan, ok. Eh, bastardo. Hai sceso di qua? Beh, galla. Lo perdiamo. Lo perdiamo. Lo perdiamo. Lo so. Lo so che lo perdiamo. No, no, eccolo lì. Pezzo di merda. Allora, il mio pensiero. Se siamo stati così tanti anni su Los Santos e adesso sicuramente passeremo tanti anni su Vice City con GTA 6 Quanto tempo ci vorrà per vedere Liberty City poi? È una domanda che mi sto ponendo da un mese a questa parte. Che comunque cioè non penso che GTA 6 poi esce GTA 7 Ah, che ha fatto? È scesa la macchina? Sì. Ma devo andare a chieppare. Li prenderò. Che carino questo cappellino che ho. Dardan Dardan Hey, bello. Scusami. Scusami. Ahia. Ecco appunto. Pezzo di sterco ma... Non metterti mai contro un russo. Che c'è? Che c'è, caro? Che c'è? Eh, non è c'è. A te. Eh, vabbè. Potevamo evitarlo. Però ci ha coltellato prima lui. Quindi non si merita la nostra pietà, insomma. No, ma questi qui non ti danno più fastidio. Credo. Credo. Non sono sicuro di questa cosa. Dardan non è un problema per te. Non più, cazzo. Buono, cazzo. Vieni al depo. questi bruciati iniziano a perdere. Questi uomini, questi Shylock come Dardan, sempre cercano di sfruttare per tutto. Un uomo in Europa, un altro russo. Bolgarino. Il vivere sull'Adriatica. Credo che ho avuto il pieno quando non l'avevo. L'avevo la mia vita impossibile. Non c'erano di evitare. non c'erano di evitare. come Dardan e Bleeder? L'avevo troppo connexioni per l'altro. Ho avuto di lasciare. È una delle lecce di come venire qui. E per vedere il tuo cazzo. Ovviamente. Ovviamente. Ecco qua, Michelle. Dove essere finito un segno tra i bambini importanti frequenti gente poco accomandabile. non so dire come va a fangool Michel anche tu grazie cousin vedo te later adesso adesso penso che posso andare da Michel tanto che ci stava aspettando avevo pure una bella macchina o come mi devo presentare a casa di Michel non lo so eh va a fangool che palle però vedete una cosa con quella macchina di Roman posa sto coltello ya va a te e i gusti musicali ah vedi prendersi la macchina no michelle dai michelle perdonami michelle ma no posso coltello sei pazzo first date primo appuntamento vediamo cosa ci spetta ce la darà o non ce la darà infatti se puoi stingere amicizia e frequentare ragazze potrebbero svolgere verità come ad esempio mangiarsi mangi non mangiarci insieme mangiarci assieme perestroica perestroica sto spettacoli comici ottimo certo che comunque i caricamenti questo è GTA 4 michelle che sei incazzata prima mi dispiace mio cugino mi dispiace mi dispiace Noi, ho finito il mio pezzo, vieni. Grazie. Sto con te in un minuto. Niente in casa. No. Perché? Tutto il vostro è nuovo, alcuni ancora hanno tagli. Ah, beh... Mi piace le cose scegliere. Lo vedo, ma tutto è nuovo. Si, sono un po' obsesione con la sceglione. Le cose sono nelle mie nervi e le faccio. OCD o qualcosa? Oh. Quindi, dove ti prendi me? Uh... Ti sembrava bene. Oh, grazie. Non so, non so. Sono nuovo qui. Probabilmente dovremmo andare al... Funfair. Si, bravo! Andiamo! Mi piace il Funfair. In realtà, lo chiamiamo un carnival. È solo un po' differente. Uh... Che cosa fai? Non lo so. Non me la conta giusta, Michelle, comunque. Roba dentro casa con le etichette. Ah... Da dove è uscita questa macchina? Vedete questi musicali di merda? Riko, perché non potresti arrivare prima? Cosa è successo? Roman si è in alcuni problemi. Ho dovuto aiutare. In realtà? Roman si è in alcuni problemi? È involucrato in cose criminali? Roman? Ma... Ha fatto alcuni errori. Ha involucrato in persone che non dovrebbe avere. Ma in realtà, è un business legittimato. E con te, Fred? Ho solo cercato di fare le right decisioni. Saggio. Gesù Cristo! Non ha messo la freccia. Perché volete da me? Non ci posso fare niente. Quindi? Questa bella picciotta sta venendo con noi. E cosa ci faremo con questa bella picciotta? Non si sa. Vieni a uscire. Le pive. Vabbè, distruggiamo tutta la città. A sto punto, con la macchina tanto non è mia. Il cardibale è fermato, Nico. Penso che alcuni grandi sviluppatori hanno acquistato o qualcosa. Ehi, c'è un allie di bowling, dovremmo giocare. Vieni a ballare. Vieni a ballare. Vieni a ballare. Non è quello che intendeva. Michelle. Non ti credere che sono questo tipo di persona. Guarda come tieni il passo. Non ho avuto un giorno per un tempo. Sono un po' lonely qui. Mi piacciono di fare un consello per andare con me. Sei la locale. Non sono una locale in l'Italia della libertà. Vi venne da un'altra... L'ora? Oh, la Midwest. Probabilmente conosci più di persone qui da me. Più di erano. Oggi. Mi di erano. Ho. Oh. No, veramente? No, non mi d'anno il covid. che è 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 6 7 5 6 9 9 10 10 11 10 12 12 12 12 15 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 16 15 15 15 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 23 21 22 20 24 25 25 Intanto ti ho rotto il semaforo, così qua fuori si crea tanto traffico, così posso dire, c'era traffico, non posso dire. Vediamo cosa ci aspetta adesso. Come on, I'll get you one. What? You keep staring at me. I'll burst one of your eyeballs. Gorgeous. This guy's a fucking creep. Give him a break. He's new in the country. I can see that. Did you walk here from 1985? Yeah. Excellent. Now stop fucking staring at me. I mean, I know I'm good looking and everything, but come on. Hey, Mallory. Hey, man. About time. What? Bloody boy, what's going on? Roman. Roman boy, you tell me what's going on. Nice aftershave. What is that? Sex pest? No. It's where is my fucking money? I had it. I had some of it. Then those Albanians you said you would deal with cam and smashed my computer. So it's my fault? I didn't say that. Good. Anyway, Nico dealt with it. Broke Darden's arm. Then beat up a couple more. Then we teach them a real lesson. Is that so? I tell you what. While you don't pay, maybe you and Nico can do me few favors. Sure. Good. Why not? Good. Laid at Vlad. What? The phone's ringing. Hey. Yeah. Okay. No, I can't do it. My cousin will do it. Yes, he can drive. No, he's not a cop. His name is Nico. You'll be right over. Nico. Sorry to his cousin. Can you go pick up Jermaine, one of my regulars? He's over on Rotterdam Hill on Mohawk Avenue? Whatever. What was this all about? Nico came in looking for you and Vlad told him to get him a fucking coffee and Nico didn't want to. Coffee? What was he thinking? I know. Justine, queste cose Romain non le può fare. He's the final Rotterdam Hill on the road to 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 the road. But Vlad... ... ... ... ... ... ... Serio Pericoloso Per quel che sembra Io non mi ricordo assolutamente niente Di GTA IV Mi ricordo quando ero piccolo Ma ancora leggevo i dialoghi Volevo soltanto cazzeggiare Non facevo mai le missioni Cosa sbagliatissima Oddio Mi vedete Michelle che succede? Anche se adesso comunque essendo grande Capisco molto di quelle cose Caro, andai eh Oh Gesù E' mo? Ma certo Ma certamente che ti porto a Massachusetts Street Vabbè A volte lui devo avere un po' Pericoloso 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 Si, hai detto Trafito Mi sono un sentito Hai sentito dicono Sve tu di più difficile Per essere верa La question è Hai capito a Faci poterli M datei Non sono rilelle Dopoicksile Manてi Non sono clean Otti In Liberty City è solo A cosa che ti porto Pericoloso Ok, ok. Mi devo prendere qualche parte di miellica. Siete? Non ho problemi con questo. Solo non... La porta non deve essere aperta. Stai qui mentre faccio un'occhio. E ora? Non scappiamo. Via. E ora? Ecco. Dobbiamo lasciare la zona. Minchia ci sono dei polizetti, però sono su. Sono su. Perfetto. Mi importate che sono su. Cazzo. Cazzo. Allora. Non credo che sappiamo dove stiamo. Non attraverso nessuna attenzione. Questo è un pozzo di mio mente. Cazzo. Posso andare a Gipson Street? Gipson? Gipson? Cazzo. 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 Roman ha fatto delle problemi con i nonciole che si chiamano di soli. Cazzo. 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 I do' accompagnare qua. Ok. Cazzo. Grazie. Per guardare se per Roman. Cazzo. Cazzo. Sperto. Prima. Una volta da venire. Ottimo. Il GTA V. Mi buttavo da dentro. A rivederci cazzo. Ah. Anche in Vice City. Vabbè. Penso che li è finito. Per ora li abbiamo finito. Sì